Pronostici di nuovo saltati in Serie D dal possibile allungo delle battistrada al rientro in massa delle inseguirrici, il passo è brevissimo. Così adesso sono ben sette le squadre in soli cinque punti e pensare che appena due domeniche fa Tessa Valdisangro e L'Aquila avevano creato il buco sul resto del gruppo e gettato le basi per la fuga a due. Un pareggio ed una sconfitta, stesso cammino per entrambe, anche questa del marciare di pari passo sembra una costante. Vincere il derby in casa degli Atessani rappresentava l'unico modo per la Sant'Egidiese di tornare a vedere il primato. Operazione perfettamente riuscita grazie a Dumbia e alla doppietta dell'argentino Buttazzoni. Spettacolare la rete del 2-3 definitivo. Per gli Atessani a bersaglio Miani sul rigore, quindicesimo sigillo personale per il capocannoniere del Girone e il Sant'Egidiese Doc Lazzarini. In uno dei due anticipi era inciampata l'Aquila sul sintetico di Agnone. Recriminano per una rete annullata e per un rigore non concesso i Rosso Blu, che devono soccombere ad Alleruzzo e Di Lullo. Di Colella il momentaneo pareggio. Stop pure per l'atletico Trivento sul campo della Civitanovese decide Mignini. Della frenata collettiva al vertice approfitta il Chieti, che torna al successo con il Cento Buchi in un Angelini senza pubblico. Per primo in vantaggio i marchigiani con il penalty dell'esperto Bifini, pari di Rosa e sorpasso dell'ultimo arrivato Visciglia. Il Cento Buchi non ci sta ed impatta con Frinconi, fissa il 3-2, il difensore neroverde Pepe. Turno da dimenticare per le abruzzesi impegnate con avversarie molisane. Oltre alla già citata l'Aquila perdono pure il Casoli a Boiano e il Miglianico tra le Muramiche con il Campobasso. Casolani avanti con il solito Morga, Fusco e Iaboni fanno pendere la bilancia sul lato dei Matesini. Troppo forte il rinnovato Campobasso per il Miglianico che non riesce a ripetere l'exploat del turno precedente con il Chieti. Finisce 3-1 per i lupi molisani in gol con Gallicchio, Covelli e Minadeo. La rete dei padroni di casa di Cavallini su punizione. 0-0 nel secondo anticipo tra Angolana e Re Canatese. I nerazzurri vengono risucchiati nella zona play-out, di cui continuano a far parte anche Morrodoro e Canistro, che nel derby si dividono la posta in paglio. I morresi chiudono la prima frazione sul 2-0 con i gol di Iannicello e Ragazzu. Nei minuti finali del match la riscossa rovetana con Pozzebonne di Antonio.